Io ho capito che i genitori nella pace d'età dei servizi da prima infanzia devono poter essere aiutati e l'aiuto può arrivare da loro stessi offrendo loro gli spazi di racconto, di narrazione e dal sostegno che i servizi possono offrire loro, quindi offrendogli gli spazi di confronto e gli spazi di riflessione. Grazie a tutti.